Ciao a tutti ragazzi e ragazze che ci ritrovati nel mio canale Scusate se era un po' zoomato vabbè Oggi abbiamo un ospite speciale cioè Aurora Ciao ragazzi Comunque dovete sapere che sotto il link di istituzione Se cercate Aurora TV Trovate il mio canale e le nuove maglie di Aurora TV sul canale shop Eppure ragazzi un intro E sono uscite le nuove maglie E quindi a metà prezzo perché prima erano E di cosa faremo oggi? Una stop challenge come vedete Aurora Come vedete ho il telecomando e oggi ci stoppermo a vicenda Adesso c'ha lei il telecomando quindi mi stopperà a me Quindi adesso gli do la telecamera così Mi farà vedere io tipo ballerò, faccio i miei fatti miei Lei viene La conoscete perché credo la sociale Facciamo Tutti gli youtuber penso quindi non c'è bisogno che spieghiamo in breve Facciamo una piccola breve Fai tipo un esempio Magari è Stop E poi Aiutatemi Poi farò via Grazie Ecco un piccolo esempio Ecco un piccolo esempio Magari lei sta saltando e io la blocco mentre salta Oppure io sto saltando E un bel fastidio perderebbe subito la stop challenge Vai 3, 2, 1, via Stop Aiuto Se non è mantenuto il muretto ragazzi perderebbe subito la stop challenge Magari abbiamo fatto così senza muretto Io lo stoppavo e lei cadeva a terra magari Cioè sarebbe proprio Va bene ragazzi adesso li do la telecamera E ci vediamo Ciao ragazzi ho io la telecamera Qua abbiamo il telecomando perché comunque inizierò io E guardate un po' Martina Aspettate ragazzi mi avvicino Non si vede Guardatela Lei balla bella felice Ma appena salterai ballerà Noi la andremo a stoppare con il nostro telecomando ragazzi Quindi Martina ciao cosa fai? Stavo giusto ballando Ah Dai dai fai vedere come balli Ok perché? Vogliono vedere no? Pensano che siano curiosi Stop Ragazzi la lasceremo stoppata per un po' Vediamo un po' Ciao Martina Io me ne sto andando Ragazzi guardatela è terrificante E noi se ne andiamo Ciao Martina guardatela che faccia arrabbiata Vorrei venire Ora io mi vado a mangiare un bel panino con la nutella Tu invece vuoi rimanere qua? Eh va bene Ragazzi noi ci andiamo a gustare un bel panino con la nutella E Martina seriamente rimane là Bloccata Yeah Ragazzi ho mangiato il panino con la nutella e andiamo a liberare Martina Allora andiamo Andiamo Guardate Il suo viso è arrabbiata Il suo viso è arrabbiata Sì mi sono mangiata due panini con la nutella buonissimi Guardate ragazzi Eh no Ce l'ho fatto con l'uovo Perché l'ho fatto con l'uovo Via Ragazzi ci siamo divertiti un sacco Erano buonissimi i panini con la nutella Lei se ne stava qua bloccata Ok ragazzi adesso ce l'ho io in mano a telecamera Vai a farti i fatti tuoi va Allora ragazzi Ho il telecomando E penso che Andri Come vedete Sta saltando Appena le Appunto Spero che mi sentite Appena le salta Noi la mettiamo in pausa E non potrà rimanere le sue spiose in aria Quindi perderà Ma ciao Aurora Cosa fai? Stai facendo danza eh? Mamma Stai facendo danza? Sì Stop Ha ha Adesso io vi vado a mangiare un bel tifanino Ciao ciao Sì Adesso rimani là Ok ragazzi Maledetta Ok ragazzi Ho finito di mangiare il panino Lei È ancora là Ma che dite Ci andiamo a fare un altro panino Ma sì dai No E mi spiace Aurora Dovrei rimanere là Ancora per un po Ragazzi Adesso Eccoci Uff Uff Vado proprio piena Va bene Questa volta la perdono Andiamo a salutare Andiamo a liberarla Ciao Aurora Martina Non ti dite in casa Va bene Stop Martina ti giuro Che Aiuto Ragazzi Ragazzi Aiuto Che non avete E' diventata Una corricella No Stop Questa volta Vediamo che sentiamo Che bella ragazzi La vita L'ho stoppata di nuovo Come se non ci fossero Le mani Stop Può riavviarti Sì Vieni Sì Sà coraggio Ah Devi rispettare le regole Stop Via Dai Devi rispettare le regole Stop Ragazzi Ragazzi Finalmente Ho preso il telecomando Oh oh Scappa Stop Ragazzi Ok ragazzi Il video si può concludere qua Ci vediamo da mani con un altro video